Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, eccoci nuovamente sul canale, secondo contenuto di giornata, è un po' che tra l'altro non realizzavo due contenuti nella stessa giornata, ma oggi credo fosse necessario, comunque interessante farlo perché ci sono delle dichiarazioni. C'è un'intervista a Matteo Tognozzi, ex capo scouting della Juventus, ora direttore sportivo operativo dell'area tecnica del Granada, rilasciato appunto al quotidiano torinese tutto sport, davvero molto molto interessante. E allora ci sono alcune dichiarazioni che voglio condividere con voi perché sono parole che devono far riflettere, soprattutto non voglio chiamarli tifosi da bar perché sarebbe offensivo detta così, però a noi tifosi, e mi ci metto anch'io, sia chiaro, che forse troppo spesso e con leggerezza, con troppa sufficienza lanciamo giudizi o giudichiamo determinate situazioni. E allora di cosa parliamo? Lo capiamo subito, però come sempre, iscrivetevi al mio canale YouTube, bastionate la cappella notifica, mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, ovviamente iscrivetevi se già non lo siete e se avete piacere di farlo. Vi leggo questo stralcio dell'intervista che è una parte della lunga intervista rilasciata di tutto sport, molto interessante e dove voglio puntare poi perché è chiamato in causa Massimiliano Allegri, quello che qui sul canale spesso è oggetto di critiche, a mio modo di vedere, a volte in maniera esagerata e con troppa leggera su sufficienza. Perché qui non si parla del concetto di essere un non allenatore o quant'altro, si parla nello specifico di che cosa ritiene Matteo Tognozzi, Massimiliano Allegri, nel confronti di quello che è stato il suo operato fatto e svolto alla Juventus, allora quando arrivò. Dato Tognozzi ad Allegri, la mano si nota, ma non soltanto la mia, è quella di un gruppo scouting strutturato, suddiviso tra mercato italiano e internazionale da prima squadra. Sono felice, e questo è il punto fondamentale su cui soffermarci poi, che sia Allegri a lavorare con tutti questi giovani. È il tecnico ideale per tirare fuori il loro meglio. Weah, nel suo caso, ci siamo presi un bel rischio. Timothy aveva poco storico come esterno difensivo. Lo conoscevamo dai tempi in cui era attaccante nel vivaglio del Paris Saint Germain, ma il suo caso conferma l'importanza di continuare ad osservare anche a livello di prime squadre. Ci siamo convinti delle sue qualità un anno fa, quando Fonseca l'ha abbassato di posizione, andando a vedere in giro per l'Europa tutte le amichevoli del Lille durante la sosta dell'ultimo mondiale. Poi ci sono ovviamente altre situazioni di cui lui parla, molto interessanti, ecco, e sicuramente una di queste è quella relativa ai giovani. Ne sono esplosi tanti, da Huysen a Sule, a Caio Giorgi, che troverà lo giusto spazio, perché il resto è convinto che sia un giocatore che ha qualità superiori, a Ildiz, strappato, quando era in corsa la trattativa tra la Juventus e il Bayern Monaco per l'accessione di De Ligt. Abbiamo fatto credere che su di lui ci fosse il Barcellona, come circolavano voci per un po' di tempo, proprio per evitare che la trattativa con De Ligt potesse cambiare, laddove abbiamo fatto un introito importante da 80 milioni, prendendo poi successivamente il dista, parametro zero, dalla Bayern di Monaco. Così come su Lecce ci siamo mossi per tempo, abbiamo instaurato un grande rapporto con l'entourage, con la famiglia, e lui, nonostante 10-12 club, top club europei, si fossero poi fiondati su di lui quando si mise in mostra con l'azionale argentina, ovviamente parliamo di Giovanili, era già convinto del progetto bianconero. E quindi sono felice che questi ragazzi siano arrivati verso la prima squadra, abbiano abbracciato il lavoro svolto da Max Allegri, il prossimo ad esplodere sarà sicuramente non Gébondé, altro elemento di sicuro affidamento e di sicuro avvenire a livelli, diciamo, di tecnica e talento di Kenan Ildiz. Queste sono le parole più o meno di Matteo Tognozzi, tra le altre ovviamente spese nel corso di questa intervista, che fanno capire quanto in maniera troppo sufficiente spesso noi che commentiamo dal di fuori senza vivere le situazioni da dentro giudichiamo il lavoro di un allenatore. Perché spesso lo dobbiamo riconoscere, io lo faccio per primo, abbiamo parlato di Allegri come l'allenatore non giusto per lo sviluppo di un progetto giovani. E allora credo che sia giusto fare un distinguo. Un conto è metterli in campo e diciamo giocare alla sbarazzina con tutti questi giovani. Ma siamo alla Juventus e ne ho parlato di qualche video fa. Anche a me, lo ricordo, piacerebbe tanto poter vedere alla Juventus giocare Kenan Ildiz, giocare Huysen, magari vedere lo stesso Nonget Bondé, rivedere presto Sule. Però è anche vero che alla Juve ci sono delle situazioni che non sono quelle di tutti gli altri club, magari come può essere con tutto il rispetto l'Empoli, il Forginone o altre, il Monza, altri club che non hanno la pressione di dover per forza conquistare un posto in Champions, per forza vincere lo Scudetto. E quindi è giusto che questo inserimento avvenga in maniera graduale in un calcio, quello italiano, che non è quello della Premier League, che non è quello della Bundesliga, che non è quello della Liga. E quindi tutto deve essere rapportato. E se Matteo Tognozzi, che a detta di tutti, o più o meno tutti, è una grande perdita per la Juventus a livello di staff, a livello ovviamente di conoscenza calcistica, perché tutti bene o male qui sotto lo avete scritto, riferisce queste parole. Sono felice che questi giovani possano arrivare a lavorare con Massimiliano Allegri, perché è l'allenatore ideale per far crescere questi giovani. Evidentemente, credo che non siano parole di circostanza, perché nessuno gli ha imposto, nessuno gli ha chiesto di riferirle. Avrebbe potuto benissimo evitare l'argomento o parlare in maniera completamente diversa. Quindi reputo essere dichiarazioni vere, sincere, frutto della conoscenza che Matteo Tognozzi ha maturato con Massimiliano Allegri alla Juventus, conoscendo questi giovani e conoscendo come Allegri tende a farli crescere, a responsabilizzarli, a farli diventare calciatori. Ora, io penso che ci stia anche un po' il discorso, come dire, una via di mezzo, perché io stesso a volte ho criticato il fatto che forse per ottenere determinate situazioni, Allegri non sia l'allenatore per iniziare un progetto diverso. E' altresì vero però che in tanti abbiamo sentito parlare, soprattutto in questi ultimi tempi, di allenatore di Allegri come un grande allenatore. Poi è chiaro, ci sono colori quali, parlo di giocatori, non parlo di tifosi tra di noi, ci sono colori quali lo reputano un grande allenatore, ci sono, uno di questi è anche in una recente intervista, lo stesso Adriano Rabiot, il quale ha riferito di essere la Juve per volere di Max Allegri. Poi quando lui arrivò, Allegri se ne andò ed è felice di averlo ritrovato perché è un allenatore vincente, ha una mentalità vincente e il fatto che dalla televisione si assista ad un calcio che magari può apparentemente non essere gradevole, per loro che sono in campo, sanno che sono lì per provare a vincere sempre e a volte sanno che la vittoria la si ottiene attraverso un calcio che dalla TV può non piacere. Sono tutti discorsi questi che so che potrebbero essere non condivisi da voi che mi ascoltate, ma come abbiamo criticato l'allenatore, come lo abbiamo messo in croce spesso per alcune situazioni che non abbiamo gradito, è doveroso e intellettualmente onesto riferire anche chi invece parla esattamente all'opposto di come molto spesso io ho letto qui, ma anche io stesso magari mi sono espresso. E quindi le parole di Matteo Tognozzi riferite ai giovani e a Massimiliano Allegri devono farci riflettere, perché forse abbiamo, diciamo, dato un giudizio troppo frettato su quello che è il lavoro che Max Allegri svolge con questi ragazzi, anche perché, non dimentichiamolo, gli stessi ragazzi. Voi direte, beh, cosa vorresti? Cosa vorresti che dicessero? Male di Allegri? No, assolutamente, è difficile trovare un giocatore che parli male del proprio allenatore, ci mancherebbe, soprattutto fin tanto che lo hanno come allenatore. Però è anche vero che potrebbero benissimo evitare o glissare certe risposte. Ve lo posso dire con assoluta certezza, quando qualcosa non ti va bene, trovi il modo di far percepire il tuo malumore. E invece va detto che questi ragazzi stessi hanno sempre detto che il lavoro che svolgono con il loro allenatore sentono essere un lavoro giusto per la loro crescita. Quindi questo è per sottolineare che a volte, quando giudichiamo Allegri in rapporto ai giovani, forse lo facciamo in maniera non corretta, diciamo così, con troppa sufficienza. Ditemi la vostra, ovviamente considerando le parole di Matteo Tognossi, più che le mie, che possono sembrarvi aria fritta, ma qui a parlare non sono stato io, è stato Matteo Tognossi, capo scouting fino a un paio di mesi fa della Juventus, elemento che purtroppo, o meglio, per fortuna per lui, è andato a vivere un'altra esperienza, ma per la Juve è stata sicuramente una grande perita. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine. Ciao.